Il rosmarino non capisce l'inverno propone un buon posto in cui fermarsi, libro dove sottolinea che il fallimento o la sconfitta possono significare un eccezionale punto di partenza da cui guardare le cose, capire perché si è giunti ad un certo momento della propria esistenza, condotti da circostanze e situazioni che ci hanno indotto a compiere determinate scelte, trascurandone altre per superficialità, scarsa convinzione o lucidità. E lo fa dal suo punto di vista quello di uomo, padre di tre figlie e marito della scrittrice e sceneggiatrice Paola Barbato, con debolezze, dubbi, consapevolezza dei propri limiti, rovesciandone la prospettiva giudicata per convenzione negativa, trasformandola in straordinaria opportunità. È il modo perché la vita non prevalga mai su di noi, ma ci trasmetta la convinzione che con il rispetto che merita, il nostro cammino su questa terra non si riveli sentiero ostile, bensì un percorso dove fatica e sofferenza possano dimostrarsi apprezzabili compagni di viaggio con cui convivere e anche saper sorridere. Un buon posto in cui fermarsi è un libro che parla di fragilità maschile, soprattutto nella misura in cui la fragilità maschile è un tema che è ancora un po' un tabù, è un'attitudine, è un sentimento che ancora quasi sembra non venire concesso. Invece i protagonisti di questo libro sono uomini che, fragili, hanno il coraggio di esserlo fino in fondo, assecondando curve che la vita loro propone, assecondando difficoltà, inciampando, a volte perfino fallendo, ma in questi loro caduti, in questi loro fallimenti trovano addirittura a volte scoprono un'inattesa felicità.